con il nostro esperto di meteo in collegamento Mario Latronico che ringrazio e vedo collegato. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi. Cosa dobbiamo aspettarci? Siamo interessati da una perturbazione piuttosto intensa di origine atlantica che ha dato un forte maltempo sull'Italia centro-settenzionale come avete potuto anche notare dalle cronache nazionali. Questa perturbazione è scivolata poi al sud tra stanotte e questa mattina e ha provocato con una linea temporalesca i primi temporali che dai settori tirrenici di Campania e Basilicata si sono poi estesi sia pure in maniera molto smorzata e attenuata tra Materano e Puglia. Nelle prossime ore questa mattina ancora possibile qualche precipitazione sulla Puglia centro-meridionale ma il grosso dei fenomeni soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio interesserà i settori tirrenici quindi Salernitano, Lago Negrese, Area del Pollino e Alta e Media Valdagri quindi il potentino diciamo sud occidentale più protetto proprio dall'Appennino e quindi dalle precipitazioni il Materano e la Basilicata Orientale quindi l'Alto Brado, il Vulture, il Melfese. Questo diciamo per la giornata di oggi per domani invece la situazione dovrebbe essere sempre molto instabile perché siamo a marzo quindi un mese molto dinamico, tempo incerto. Ecco domani irromperanno venti più freschi da maestrale quindi le precipitazioni tra il debole e il moderato interesseranno questa volta un po' di più proprio la Basilicata Orientale quindi l'Altamurgia, il Materano e parte anche della Puglia centro-meridionale insomma da Bari giù fino al canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature domani sono previste in diminuzione però perché i venti andranno a disporsi dai quadranti settentrionali, saranno prima da maestrale poi da nord tra martedì e mercoledì, infatti mercoledì pur essendo una giornata asciutta sarà una giornata un po' più fresca. Quindi avremo questo lento ma progressivo calo delle temperature, i forti venti di scirocco che ci hanno interessato domenica sono stati sostituiti da venti un po' più freschi appunto prima da ovest e poi tra martedì e mercoledì da nord. Questo diciamo nell'immediato. Poi nel corso della settimana avremo un miglioramento del tempo quindi tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì pur in un contesto termico non particolarmente freddo ma nemmeno molto umido e quindi insomma in linea con i parametri meteoclimatici avremo un tempo più asciutto, più soleggiato quindi diciamo da giovedì avremo una prevalenza di tempo asciutto e di sole con temperature massime che pian pianino cominceranno ad aumentare. Quindi fino a martedì ancora ombrelli aperti poi da mercoledì avremo una fase più asciutta e parzialmente soleggiata. Mario in conclusione si conferma il mese di marzo un mese pazzarello a tutti gli effetti. Sì hai detto bene, è un mese molto dinamico, fa da transizione diciamo tra l'inverno e la primavera. Sappiamo che la primavera meteorologica debutta il primo del mese di marzo, quella astronomica tra il 21 e il 22. Quindi saranno possibili degli episodi piovosi, anche freddi però poi dei repentini aumenti di temperatura come abbiamo anche notato nei giorni precedenti. Un mese molto dinamico però al momento non si intravedono rigurgiti, consentitemi questo termine, invernali. Cioè nel senso che saremo interessati nei prossimi giorni da instabilità, da qualche pioggia ma non avremo episodi di freddo. Quindi almeno per il momento il colpo di coda invernale non si intravede. Va bene, non ci resta allora che munirci di ombrello per qualche altra ora. Noi ti ringraziamo chiaramente per la tua solita disponibilità e professionalità. Grazie a voi dell'invito e a risentirci nei prossimi appuntamenti. Buon lavoro.